Ragazzi in questo video si vede veramente Herobrine Ma volevo solamente ironizzare sul fatto che molti youtuber ci giocano sopra Che dicono oh mio dio c'è Herobrine Si è fermo, non è che fa tanto, è fermo Già che ci sono vi chiedo 200 like per continuare con il quarto episodio della Deathcraft 2 E in questa puntata vedrete Herobrine Fermo Si ogni tanto si nasconde Però ci sarà Oggi mi sento come uno zombie, veramente, non ho dormito niente Comunque ragazzi ho rimesso le texture normali Quindi si vedrà la pistola a forma di pistola di Minecraft, fortunatamente Nei commenti scrivetemi se devo usare il fucile a pompa, questo qua Poi l'Uzi oppure la K47 Oppure il cecchino che sarà veramente un episodio difficile, sarà challenge usa il cecchino Allora qua siamo negli appartamenti diciamo del signor Ender Dragon Guardi che mi sa che è entrato un Enderman in casa Anche perché qua teoricamente ci dovrebbero essere, ci dovrebbe essere il portale dell'Ender Oh mio zio Oh mi ha droppato la TNT Oh una mela d'oro Attenzione Antidolo Oh guarda che sbirciava Che guardavi eh? Cosa guardavi te? Cosa avete fatto a questo maiale poverino? Oddio Qua c'è una chest, dentro c'è una carica di fuoco Sì Dai c'è un po' di roba insomma Oh una spada Ma una spada di ferro Pfff Da poveracci Tra l'altro mi manca tantissimo Eh La spada che avevo una volta L'ho persa perché Ah Wow Ogni volta che Posso ridere Oh Che figata posso ridere Oh 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 Che cazzo è? È un porno giapponese Ma che cos'è? La morita Aspetta tiro la TNT TNT Oddio no no Sono caduta No Oddio Non mi ricordavo quanto ero l'avevo in sto gioco Ogni volta è sempre come una prima volta Mi sono fatto tantissimo danno da solo Tipo uno 99 promise and again no I got no sonno Perché Cosa fa? Stava male? No stava male Bill Che insensibile Ma stanno tutti male Non se la sentono neanche di attaccarmi Ah questo sì Where are i miei fan? Lock you un autografo please Questi tutti uguali eh Oh un boomer Sembro io quando Catturi Pokémon su Pokémon Go Che continuano a fare No No L'acido no Non l'ho vista Ah Oddio Ragazzi salvatemi Non mi guardano Non mi guardano assolutamente Bill Joy Francis Che fate? Insulto Ma come? Ho detto insulto 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 è yeah Fuck yeah Wow È là C'è il portale No Muori Ai 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 Qua c'è tanta roba dentro Andiamo a esplorare Vediamo dov'è l'end Wow 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 Lui veniva da lì Assolutamente Madonna Cosa ti ho detto Riguarda il fumo Cosa ti ho detto Riguarda il fumo Il fumo fa male Esploriamo Esploriamo Vediamo cosa troviamo Ma qui ho già acceso tutti Sto facendo il giro tondo Che è una cosa che mi capita molto Ah Oh Un jockey Mi capita molto spesso in questa mappa Continua a fare giro giro tondo Casca al morto Tutti giù per terra Una K47 Va bene Perché non posso prenderlo Oh eccolo E loro fanno sempre i loro giretti Eccoli Tata 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 Wow Maddea Cos'è quello? Un boomer no eh? Oh Ecco il boomer Ok Adesso siamo veramente Nella merda A meno che non tiri la TNT Fatemi passare Volebbero scoppiare tutti Perché sono attratti dalla TNT Mamma mia Oh qua ci sono le librerie E possiamo trovare due cest Ogni stanza Mi sembra Vediamo se hanno fatto proprio bene bene Ma ragazzi È fatto proprio perfetto Se vado qua mi rallento tra l'altro Oddio Qua ha una cesta è qua Che non c'è niente Bellissimo Ah no no C'è una cosa che è difficile da trovare in questo posto Carta e libri Wow Sento versi angusti Oddio sento forse un boomer Ah un boomer Ok meno male Grazie raga Per salire dovrei Cercare Ecco le due ceste È fatto veramente benissimo Oh Doppia pistola Attenzione Spara al nulla Giusto per provarle Come si sale Oh eccolo l'entrata Ah Cos'è Ma no Oddio c'è qualcosa in testa raga C'è qualcosa in testa Levate Ma no Maledetto ragno Azz Mi è caduto il cellulare Mamma mia che bello quando Oddio Guarda che bello quando Quando riprende le pistole Wow Mamma mia Proprio come nei film d'azione Quello è potenziato eh Aiaia Ah Spitter Dove l'ha lasciata Là dietro Ok No 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 Cos'è sta roba Cos'è sta roba Morita Anche da dietro Oddio Non son pronto Non ho la vaselena Ho già detta questa Tante volte Però è bellissima Qua battuta Uuh Qua sento dei rumori Quasi non mi hanno toccato Guarda il mio culo Oh, look my ass, bitch Look my, look my ass Oh, yeah Sali, please Qua? Munizioni Ah, è da qui che sono caduti, fantastico Oh, tu dovevo andare L'abbiamo trovato, raga L'abbiamo trovato nel portale Non dovrebbe esserci uno spawn di silverfish No, c'è anche uno spawn di silverfish Oh mio, dobbiamo trovare Ah, dobbiamo trovare l'occhio del land per attivare il portale Quindi dobbiamo andare in giro A cercare questa cosa qua Dobbiamo cercare Qua, qua dobbiamo andare Uh, sto cadendo Aspetta, eh Mettiamoci in shift Tutti morti? Conti? Ok, andiamo Let's go Oddio, siamo nelle fogne Trovo un topo Bam, headshot One shot, bitch One shot, bitch Questo è ammo efficient Oh, il fucile da cecchino, raga Proviamo il fucile da cecchino Non funziona Uh Mamma mia, ragazzi Mamma mia Bam Headshot, bitch Oh Let's try the trick shot Aspetta, raga Voglio fare il trick shot Devo aumentare la sensibilità Tipo al massimo Vediamo Wow Nosco Stiamo ammazzando Bitch Ha detto bitch Boom Oh my god Allora è difficilissimo Col mouse E questo gioco qua È veramente difficile Però abbiamo fatto Abbiamo fatto Abbiamo fatto Oh L'avete visto? C'era Irobrine, raga Non vedo niente Cos'è? Ah Che cazzo era? Oh mio dio Ma no, raga Quello che cazzo è? Ma veramente Ci sono queste cose Non c'è un pulsante Mio dio, raga Si fa veramente Interessantissima quella cosa Là c'è tipo Steve morto Con le frecce Oh mio dio Ma che cazzo Facciamo Facciamo degli esperimenti Su sti cosi Oh mio dio, raga Oh mio dio Una freccia nell'occhio Anche Ragazzi Siamo pronti Non so cosa mi aspetta Là Ma quello Quello chi è? Non dirmi che è Irobrine Non dirmi che è Irobrine Ti prego Oh mio dio C'è Irobrine, raga Oh mio dio Quello È il fottutissimo Irobrine Oh mio dio Muori E qua c'è il portale Per uscire da questo Maledettissimo posto O per andare in un altro Quindi niente ragazzi Mi sa che abbiamo finito Anche questa Questa zona qua Chiudiamo la porta rossa E abbiamo finito È sparito Irobrine Ora è la stanza di bedrock e oro Oh mio dio Ragazzi Proviamo lo scar Che non l'abbiamo ancora usato Però se mi porti In un altro mondo Diciamo che Ah no Mi porta nel Nel nether Oddio raga Qua c'è la porta Ma è una porta che si apre Quindi le armi sono tutte qua Ragazzi allora ditemi Che armi devo usare È Tra Perché posso scegliere solo tra queste C'è solo Allora posso scegliere tra uno scar Che è quello a tre colpi Questo qua Poi il fucile a pompa E Luzi Ok ragazzi Quindi Ditemi cosa devo fare Tra l'altro questo Irobrine qua Veramente è una cosa Molto sospettosa Tu non stai in bilico Tra i due mondi Cazzo sai Harry Potter Vieni qua Quindi ragazzi Con questa visione Bellissima Diciamo che ci rivedremo Ad un prossimo episodio Della Deathcraft 2 Mi raccomando Ditemi quale arma dovrò usare Nel prossimo episodio Ho deciso di fare questa cosa qua Per rendervi più partecipi Comunque ho creato un canale telegram Si chiama Batcave Batcave Con il tre finale Batcave Che è la Batcaverna E se non vi siete ancora iscritti Iscrivetevi Ed entrate nel club Vi ricordo inoltre che se volete supportare Questa serie della Deathcraft Arriviamo ad almeno 200 O 300 Mi piace Diciamo Ok Giusto perché sono stato inattivo un po' di tempo Quindi Dobbiamo carburare Per ritornare un po' In carreggiata Dall'occhio è tutto Bella